I numeri di questa tragedia dicono che al momento abbiamo 7 deceduti, di cui 3 identificati, abbiamo 8 feriti, di cui 2 in condizioni delicate, abbiamo 14 persone che definiamo reclamate, cioè persone per cui i familiari si sono fatti vivi perché queste persone non sono rientrate a casa, non si hanno più notizie. Ovviamente la speranza è che nelle prossime ore di queste persone si possano avere le notizie. Di queste 14 persone, 4 sono di origine straniera, 3 della Repubblica Ceca e un austriaco. Nella giornata di ieri abbiamo parlato anche delle auto che erano rimaste nei pressi dell'avvio del percorso. Oggi di queste auto ce ne sono ancora 4 di cui non abbiamo notizia e sono tutte auto straniere. Una tedesca, due della Repubblica Ceca e una ungherese. Questo è il percorso definito della situazione in questo momento. Grazie.